Benvenuti al consueto appuntamento con il meteo. Mese di maggio questo è estremamente dinamico dal punto di vista della circolazione atmosferica sulla nostra penisola, tanto che dopo il finire della scorsa settimana piuttosto rovente, con temperature anche intorno, se non al di sopra dei 30 gradi centigradi, ora stiamo assistendo ad una fase pseudo-invernale con temperature che sono scese anche di 15 gradi centigradi su tutte le regioni, con rovesci, temporali e vere e proprie bufere di neve anche a quote medie sull'Appennino. Le immagini del satellite sono piuttosto eloquenti. La nostra penisola infatti è sotto l'influenza di una circolazione a carattere freddo che ora sta interessando soprattutto le regioni del versante adriatico e quelle meridionali. Mentre se spostiamo lo sguardo più ad ovest, sulla Francia e sulla penisola iberica, troviamo condizioni decisamente migliori. La carta successiva, relativa alla distribuzione attuale della pressione al suolo e nella media troposfera, ci mostra in maniera schematica la situazione. Ecco la circolazione a carattere freddo appena descritta sulla nostra penisola e sui Balcani, mentre l'anticiclone lo ritroviamo soprattutto sulla penisola iberica, dove le temperature sono decisamente elevate, e sull'Africa nord-occidentale. La sequenza previsionale ci mostra come nei prossimi giorni ci sarà un miglioramento delle condizioni del tempo sulla nostra penisola, anche se lo scivolamento di una circolazione nord-atlantica verso i Balcani lambirà le regioni adriatiche dove manterrà condizioni di tempo incerto e non permetterà alle temperature di salire più di tanto. Nel medio termine i modelli di previsione, se osserviamo la carta successiva, relativa al fine settimana, propongono un ritorno dell'anticiclone africano, ma solo sulle regioni centro-meridionali, mentre quelle settentrionali verranno interessate da infiltrazioni d'aria inestabile di origine atlantica. Ma ora concentriamoci nel breve termine sulla nostra regione, dove nella giornata di martedì ci saranno ancora dei residui annuvolamenti nelle zone meridionali, in modo particolare sul Teatino, dove ci sarà ancora occasione per qualche rovescio. Già nel corso della mattinata però ci sarà un rapido miglioramento. La temperatura subirà un aumento, ma i venti rimarranno ancora settinzionali, moderati lungo la costa, cosa che contribuirà a mantenere il mare mosso, anche se con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. La giornata di mercoledì si aprirà con condizioni discrete su tutto il territorio, ma dal pomeriggio ci sarà un rapido peggioramento, soprattutto lungo la fascia ritoranea, con rovesci e qualche manifestazione temporalesca. La temperatura dal pomeriggio farà registrare una nuova diminuzione, accompagnata da un rinforzo dei venti, ancora settinzionali, cosa che contribuirà ad un aumento del moto ondoso. Nella giornata di giovedì le condizioni del tempo si manterranno decisamente variabili su tutto il territorio, con qualche occasionale rovescio, soprattutto lungo la fascia ritoranea e in particolar modo nel Teatino. Nel corso del pomeriggio comunque ci sarà un miglioramento. La temperatura rimarrà stazionare su valori decisamente freschi per il periodo, in quanto i venti continueranno a soffiare dai quadranti settinzionali, mantenendo il mare ancora mosso. Bene, questo è tutto per il momento. Arrivederci. Grazie.